Nel mese di gennaio a Carpi abbiamo costituito 11 circoli del Partito Democratico di Carpi, 11 circoli con 11 coordinatori, di cui metà donne. Lo stesso gruppo dirigenti dei vari circoli sono costituiti da metà donne e metà uomini. Quindi molti persone sono nuove, di cui molti giovani. Questo è un dato molto importante per quanto riguarda la zona di Carpi, per quanto riguarda la costituzione dei circoli. In più abbiamo in questo mese di gennaio aderito al Partito Democratico oltre 2300 persone. Noi pensiamo di continuare ad andare avanti su questa strada e di cui questi circoli dovranno incominciare a lavorare per affrontare i nuovi temi di una nuova campagna elettorale, oltretutto che si farà molto difficile nel momento che noi pensiamo di correre anche da soli. Nello stesso tempo abbiamo anche eletto, in fatto di febbraio, un segretario comunale in una grandissima e bellissima assemblea che abbiamo fatto al Super Cinema. Questo è il nostro intento, quello di continuare ad andare avanti con le facce più nuove possibili, cercando di dare continuità e anche spessore a questo nuovo partito, cercando di muoverci nel modo migliore possibile per affrontare i nuovi temi di una nuova società italiana. Grazie.